buongiorno amici e benvenuti sul mio canale oggi un gustosissimo primo piatto risotto allo zafferano con funghi e salsiccia un piatto avvolgente ideale per tutta la famiglia 230 grammi di riso carnaroli 250 grammi di funghi champignon 300 grammi di salsicce una cipolla e una bustina di zafferano cominciamo a rimuovere il budello della salsiccia affettiamo e tritiamo la cipolla un bel giro d'olio evo e giù con la cipolla a soffriggere facciamola rosolare per 3 minuti e aggiungiamo le salsicce dopo altri 3 minuti i funghi champignon mescoliamo di tanto in tanto lasciamo il riso e facciamolo tostare sfumiamo con un bel mezzo bicchiere di vino bianco tiriamo la cottura del riso con un bel brodo vegetale saliamo e pepiamo sciogliamo la bustina di zafferano in mezzo bicchiere d'acqua ed ecco il nostro risotto inizia a prendere forma che colore raggiunta la cottura a fiamma spenta andiamo a mantegare il risotto con burro e parmigiano manteghiamo il risotto per un minuto ed ecco il nostro gustosissimo primo piatto risotto allo zafferano con funghi e salsiccia e pronto risotto 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 Grazie a tutti.